Buongiorno a creazione nel ventunesimo secolo. Sono il vostro conduttore, David Reeves. Ora il titolo del programma di oggi è Il mistero dei dinosauri. Prima di cominciare voglio che tu sappia che non sei un caso. Tu sei speciale, creato a immagine di Dio. Il libro di Giovanni ci dice che in principio Gesù Cristo creò ogni cosa e che Lui è vivente ed è qui oggi è un piano per la tua vita. Ma ora è il momento del nostro segmento settimanale I Cieli Dichiarano. Nel 1915, nella maggior parte delle scuole statali, era richiesto si leggesse la Bibbia. Nel Tennessee, ordinanze legali istruivano che ogni giorno dovevano essere letti dieci versetti biblici. Nel 1923 passarono due proposte di legge contro l'evoluzione e testi in Oklahoma furono banditi a causa della concezione materialistica della storia, cioè la teoria della creazione di Darwin. William Jennings Bryan dichiarò che l'accettazione di un'ascendenza bestiale avrebbe implicato la demoralizzazione e nel 1925, sotto l'ordine del corpo legislativo del Tennessee, fu approvata una legge che dichiarava un crimine insegnare qualsiasi teoria che negasse la storia della divina creazione dell'uomo come viene raccontata dalla Bibbia e insegnare invece che l'uomo discenda da un ordine animale inferiore. Poco dopo intervenne l'American Civil Liberties Union e l'estate del 1925 vide l'inizio del processo scimmia. 85 anni dopo, la visione della creazione divina, così altamente stimata nel 1925, fu eliminata dal sistema scolastico statale e la religione dell'evoluzione considerata un fatto. Fino agli anni 40, i testi scolastici erano ancora altamente cauti circa la dottrina evoluzionistica. Tuttavia, oggi andrebbe bene se anche solo si trovasse una casuale menzione di altre teorie sulle origini. L'edificio costituente l'educazione si è sbriciolato a causa della teoria dell'evoluzione di Darwin. Genesi 1 ci dà la relazione storica di come noi siamo venuti a essere e non implica scimmie che hanno perso la coda. Sono David Reeves e, veramente, i cieli dichiarano la gloria di Dio. A tutti piace una bella storia, specialmente se è focosa. Oggi daremo uno sguardo alle misteriose creature conosciute come dinosauri. Esattamente, cos'è un dinosauro? Quando vissero? Cosa gli è successo? Allora, dopo molta ricerca, il mio ospite Mike Snavely crede di poter rispondere a queste domande. Cresciuto in una zona del Sudafrica dove esistono creature complesse e diverse, Mike ha imparato direttamente molte cose sulla natura. Suo padre era pilota in zone selvagge e provvide servizi per il popolo Zulu. Mike ha lavorato per il National Park Service nel Kruger National Park, dove si è guadagnato il soprannome di Ranger Mike. Ha fondato Mission Imperative nel 1995 e ha prodotto una serie di affascinanti DVD. Ora venite con me a dare il benvenuto al mio amico speciale Mike Snavely. Mike, benvenuto al programma. Grazie per avermi invitato di nuovo. Assolutamente. Tu sai quanto apprezziamo quando vieni in studio e ci parli di questi argomenti, perché tu ami veramente la natura. Sei cresciuto in Sudafrica, hai visto le cose che hai visto come guardia forestale e ora fai i safari in luoghi come il Sudafrica e fino al Grand Canyon. Allora, quando parli del mistero dei dinosauri, sai, è stato qualcosa che si è andato formando nel corso degli anni, perché alle persone è stata detta solo una cosa, cioè che sono vissuti milioni di anni fa. Infatti hai menzionato il libro di Darwin. Bene, divenne popolare proprio nel periodo in cui i dinosauri furono scoperti. Così le due questioni, in un certo qual senso, sono cresciute insieme. Ok. Così, quando menzioni la parola dinosauro oggi, tutti pensano in termini di milioni di anni. Perciò vogliamo vedere qualcosa di diverso, cioè che cos'erano, quando vissero e che cos'è loro realmente successo. Certo. E vogliamo considerare questo dal punto di vista biblico. Brevemente. Dunque, adesso, prima di cominciare, alcune persone mi hanno avvicinato e mi hanno detto, David, non leggiamo di dinosauri nella Bibbia e così non devono essere mai esistiti. Primo, parleremo di alcune di queste questioni nel programma di oggi, ma secondo, abbiamo un calco di impronte qui sul set di cui hai messo un'immagine sullo schermo. Giusto. Impronte di teropodi, dinosauri, sono veramente esistiti. Sì. Erano creature vere. Giusto, ma c'è una versione biblica, sai, per capire. Ah, certo. Noi tutti sappiamo qual è la prospettiva evoluzionistica e così hanno cercato di analizzare molte di queste creature in base ai denti. Quindi, diamo uno sguardo a questi denti. Questo non è il dente di un dinosauro, ma di un capodoglio. Perché ti faccio vedere questo, visto che stiamo parlando di dinosauri? Un po' di pazienza. Ecco, un altro lungo dente affilato. Sembra di un rapace. Certo. Un artiglio. Sì. No. È di una creatura che solo sua mamma potrebbe amare. Bene. Ecco ora il dente di un dinosauro, che è probabilmente quello del più famoso dinosauro tra tutti quelli che possiamo immaginare. Certo. In qualunque parte del mondo si vada è probabilmente il più famoso, è il T-Rex. Sì, te lo posso dire, T-Rex. Sì, sì. E noi sappiamo tutto di loro. Sappiamo che erano terribili. Ah, che possono andare a fare dall'esterno degli edifici. Sappiamo tutto di loro. Ma molto su queste creature è stato ampiamente esagerato. Comunque, persino parlando solo dei denti, dicono, allora, osserva i lunghi denti a guzzi. È ovvio che erano carnivori. Ok. Beh, solo perché aveva lunghi denti a guzzi non prova che fosse carnivoro. Certo. Lungo dente a guzzo. Sì. Lungo dente a guzzo. Questi sono denti che abbiamo appena visto. Il fatto che una creatura ha lunghi denti a guzzi non prova nient'altro se non che ha lunghi denti a guzzi. Sì. Ci sono rettili a giorno d'oggi che hanno lunghi denti a guzzi e che non mangiano carne. Vedi, non è un problema per la posizione della creazione che un T-Rex mangiasse carne. Non insidia per niente la posizione della creazione. I leoni mangiano carne ora, ma nessuna di queste creature mangiava carne al principio. Al principio tutte le creature mangiavano piante verdi. E il concetto qui è che possiamo guardare queste cose e sappiamo che le troviamo nella testimonianza fossile, ma per le altre possiamo osservare che abbiamo solo le ossa e i fossili di queste cose. da confrontare. E poi queste elaborazioni di come si comportavano, quello che facevano, i suoni che emettevano. Sono tutti costruiti? Sono tutti costruiti. Senza nessuna idea. Potrebbero essere così, potrebbero non esserlo. Torniamo un po' indietro su alcune affermazioni che sono state fatte. Sì. Diamo uno sguardo. Quali sono alcune caratteristiche dei rettili? Perché un dinosauro, per definizione, è tre cose. È un rettile, è terrestre e la struttura del suo scheletro è tale che le sue zampe escono dalla parte bassa del corpo, come vedremo. Ok. Così, quali sono alcune caratteristiche di alcuni rettili? In Sudafrica avevo molti rettili, così ne posso parlare con cognizione di causa. La maggior parte dei rettili nasce da un uovo. L'uovo solitamente non è fragile, come quello di un uccello. La maggior parte delle uova di rettili è, diciamo, soffice, tipo pellame. Così, sarà soffice e simile a pelle. E... Da-da! Ecco che dall'uovo esce un T-Rex. No, non ho nessuna idea di quanto grande fosse un uovo di T-Rex. Certo. Ma in qualunque caso, la maggior parte dei rettili, letteralmente, esce da un uovo. Certo. È una loro caratteristica. Ecco qualcos'altro. Tutti hanno scaglie sulla pelle. Che cos'è una scaglia? Una scaglia era essenzialmente una piega della pelle. Ok. E a volte possono persino cambiare colore, come il camaleonte. Ora, gli evoluzionisti devono spiegare l'esistenza degli uccelli e ci dicono che gli uccelli si sono evoluti da qualche forma di rettile primitivo. Dicono, guarda la scaglia, si può vedere che diventa una piuma. Beh, allora guarda le mie dita, si può vedere che stanno diventando un tipo di piuma e un giorno volerò. No. La piuma di un uccello è molto, molto specifica. Non ha niente a che vedere con la pelle. Cresce attraverso di essa, ma gli uccelli hanno circa cinque tipi differenti di piume. Penne di contorno, ornamentali, remiganti. Una penna d'uccello è molto, molto specificamente disegnata. Non ha proprio niente a che fare con una scaglia. Ma questa idea è facilmente afferrata dalle persone. Così, oh sì, le scaglie diventano penne. Ma quello che non dicono è come il polmone di un rettile diventa un polmone di un uccello. Sono molto differenti e a metà strada fra i due ucciderebbe la creatura. Come fa a succedere? Ma anche per quello ci sono voluti milioni di anni. Eh sì, sì. Ma come fa un tipo a diventare un altro tipo? Wow. Ecco un'altra caratteristica. Tutti camminano sul ventre. Ok. Oggi tutti i rettili essenzialmente camminano sul proprio ventre. Hanno una struttura scheletrica per cui le zampe escono dai lati del corpo. Ah. Non così i dinosauri. I dinosauri sono disegnati in modo che le zampe escano dalla parte inferiore del corpo. Come la mucca o il cane o qualcosa del genere. Quindi è un'interessante caratteristica. Eccola un'altra. Crescendo in Sudafrica, l'ho imparata molto chiaramente, i rettili sono a sangue freddo. Non sapevo che cosa significasse. Questi rettili, proprio come quello che vedi, erano nella nostra missione in Sudafrica. Io li catturavo. Mi piaceva catturarli. Sono come piccoli draghi, denti taglienti come rasoi. E quando li catturavo, li mettevo sotto il mio cuscino. Perché lo facevo? Beh, lo facevo. E alla fine della giornata ritornavo e la mia lucertola sembrava molto più addomesticata. Dopo aver passato un giorno sotto il mio cuscino, sai, così avevo tutte queste lucertole in giro, nella camera, davo l'ora da mangiare. E dentro due settimane erano molto, molto addomesticati. Hai pensato di essere quello che sussurrebbe ai draghi. Sì, ho pensato di essere un genio. Ho pensato di aver trovato il modo per addomesticare un rettile. Alla fine mia madre mi costrinse a mettere fuori tutte le 28 lucertole che avevo. Comunque, il punto è che le mie lucertole erano così addomesticate che non erano neanche in grado di aggrapparsi ad un albero. E ho incominciato a rendermi conto che, ehi, calma, le mie lucertole ne sono addomesticate, sono malate. Ma penso un po', non erano neanche malate, erano soltanto fredde. Io non conoscevo la differenza tra sangue freddo e sangue caldo. Un sistema metabolico molto differente. Che è un'altra cosa che gli evoluzionisti non spiegano. Come fa una creatura a sangue freddo, che ha bisogno di molto meno cibo, a diventare una creatura a sangue caldo. È un sistema metabolico totalmente diverso. Come un uccello. Esatto. Così, queste cose non vengono spiegate. E sono solo alcune caratteristiche dei rettili. Ora, prendiamo in considerazione le domande che le persone fanno. Quando sono vissuti? Che cos'è successo loro? E che cosa ha da dire la Bibbia su di loro? Ok. Incominciamo osservando una sequenza temporale. Una sequenza temporale nella Bibbia va dalla creazione fino ai nostri giorni. Ci sono almeno sei genealogie nella Bibbia. E la Bibbia è su Gesù Cristo. Così la testimonianza genealogica, cioè l'albero genealogico, è su Gesù. E parte della genealogia è letteralmente associata ad ogni persona secondo gli anni. Così si possono sommare gli anni, incominciando da Adamo fino a Davide fino a Gesù. E Gesù nacque circa duemila anni fa. Somma, tutti questi anni insieme, e non risultano milioni e milioni di anni. Grosso modo ci sono circa sei mila anni. Così, impiegandola come scala, potrebbe essere di più, ma non molto. Usandola come scala, prendiamo la nostra sequenza temporale, e la suddividiamo in periodi uguali di mille anni. Così possiamo incominciare ad includere la risposta. La prima domanda è, quando vissero? Beh, possiamo rispondere a questa domanda facendone un'altra. Quando li ha creati Dio? Perché la Bibbia chiarisce bene che Dio ha creato tutto in sei giorni letterali. Sì. E abbiamo altri programmi per far vedere come mai sappiamo che sono sei giorni letterali, come mai sappiamo che sono solo sei mila anni. Ma nella Bibbia, sai, dove si parla di dinosauri? Dove? Non menziona neanche la zebra, né la giraffa. È vero. Dice semplicemente che nel sesto giorno fece le creature che strisciano sulla terra, e gli animali selvatici sulla terra, e il bestiame dei campi. Tutte creature terrestri, e per definizione sono inclusi anche i dinosauri. Anche i dinosauri. Così sappiamo che sono stati fatti il sesto giorno. Anche Adamo e Eva vennero creati in quel giorno. Vissero insieme, quindi. Gli evoluzionisti dicono, nessun uomo poteva mai vedere un dinosauro. I dinosauri si estinsero circa 65 milioni di anni fa. Noi ci siamo evoluti da un essere simile ad una scimmia circa 2-4 milioni di anni fa. Così nessun uomo potrebbe avere mai visto un dinosauro. No, la Bibbia ha una prospettiva totalmente differente. Furono creati lo stesso giorno e sono vissuti insieme per 1656 anni. Questo primo periodo è l'età dei dinosauri, si potrebbe dire. Ora, si estinsero tutti quanti, come tutte le creature terrestri che respiravano con le narici. Tutti quanti si estinsero in quel periodo, eccetto le creature che erano dove? Che erano nell'arca. Nell'arca. Qui è il punto. Alcuni potrebbero dire, ma i dinosauri erano nell'arca. Sì, c'erano. Come lo sappiamo? Beh, lo sappiamo tramite molti diversi mezzi. Primo, sappiamo che i dinosauri erano ancora vivi al tempo del diluvio, perché troviamo i loro fossili nei sedimenti prodotti dal diluvio. Sotterrati quindi in modo catastrofico. Assolutamente. Si sa che erano ancora in vita. Secondo, Dio disse a Noè di prendere con sé nell'arca due di ogni tipo di creature. Sì. Un leone è un tipo di creatura? Una girafa è un tipo di creatura? Un brachisauro è un tipo di creatura? Sì, sicuro. E la terza ragione è che la Bibbia dice che Noè obbedì a Dio. Ok. Così erano ancora in vita. Erano un tipo di creatura? Dio aveva detto, prendi due di ogni tipo con te? La Bibbia dice che Noè obbedì a Dio. Infine, Noè, dovete andare a cercare gli animali? La Bibbia dice che Dio portò gli animali a Noè affinché li facesse entrare nell'arca. Un evento soprannaturale. Così sappiamo che i dinosauri erano nell'arca. Ok. Allora, qualcuno potrebbe dire, ma calma, calma, calma. Come fa Noè a mettere un enorme brachisauro nell'arca? Allora, in principio i brachisauri non erano enormi. In principio sono piccoli. Così è del tutto possibile che abbia potuto prendere quelli giovani, certo, non quelli che hanno ancora bisogno della madre, quelli che sono già stati svezzati e abbia fatto salire loro nell'arca. Ciò avrebbe avuto anche altri vantaggi. Vediamo alcuni di questi altri vantaggi. Sicuramente. Per esempio, animali giovani potrebbero essere più sani. Forse non hanno combattuto tra di loro per accoppiarsi o per un territorio o altro. Sì. Gli animali giovani non occupano così tanto spazio a bordo dell'arca. È vero. E siccome sono piccoli, non mangiano tanto e non producono tanto scarto che poi qualcuno deve pulire. Considerazione importante. Giusto. Gli animali giovani dormono molto e gli animali giovani non combattono tra di loro. Queste sono alcune ragioni per cui potrebbe avere preso animali giovani nell'arca. Alcuni dicono, è impossibile. No. È del tutto possibile che possa avere fatto in questo modo. Così qualcuno potrebbe dire, va bene, finora capisco. Così c'erano gli animali nell'arca e quindi avrebbero poi dovuto scendere, no? Giusto? Giusto. Così, dopo, che cosa è successo loro? Ci sono tutti gli altri animali dopo, non è vero? Certo. Quella è un'assunzione falsa. Ogni zoologo direbbe che il numero di animali che abbiamo oggi è effettivamente minore di quello di allora. Molti animali si sono estinti dal termine del diluvio. Molti animali si sono estinti. Non solo i dinosauri. Noi siamo affascinati dai dinosauri a motivo della misura che alcuni di loro possono raggiungere. Giusto. E così, pensando che si sono realmente estinti, crediamo che sia avvenuto tanto tempo fa. Ma oggi non vediamo neanche animali come i trilobiti. E persino nel passato recente, creature come l'uccello dodo e altre si sono estinte completamente. E viviamo insieme a relativamente pochi animali, non solo i dinosauri. Sappiamo però che i dinosauri sono vissuti a lungo insieme agli uomini. E come lo sappiamo? Beh, in tutto il mondo ci sono prove. Le incisioni, per esempio. Come in Asia sudorientale. Apparentemente un tipo di dinosauro. Oh, e questo ha ancora la pelle. Sì, davvero. Qualche cosa che potevano osservare. Allora, che dire del nostro stesso sud-ovest? Qualcuno inciderebbe una creatura come quella senza vederla? Certo. Voglio dire, questo tipo di evidenze si trova in tutto il mondo, che uomini e dinosauri hanno vissuto insieme anche molto tempo dopo il diluvio. Ok. Ma sappiamo che Giobbe, il libro di Giobbe, parla di due di essi. Giobbe 40. Dio va da Giobbe e gli dice, considera Behemoth. Ora, nella maggior parte delle Bibbie c'è una piccola nota a fondo pagina e ricorda che le note non sono ispirate, sono solo delle idee per aiutare a comprendere. Certo. Probabilmente era un ippopotamo, un rinoceronte o probabilmente un elefante. Ok. E poi, andando avanti, dice che è la principale delle creazioni di Dio e la maggior parte delle persone pensa che sia la creatura più grande che Dio abbia fatto. Giusto. Allora sarebbe probabilmente l'elefante. Penserebbero così. La creatura più grande che Dio abbia fatto, ovviamente eliminerebbe il rinoceronte e l'ipopotamo. Ok. Dice qualcos'altro, dice, egli mangia l'erba come il bue. Perciò so che non è un elefante perché sono cresciuto con gli elefanti. Sei cresciuto con gli elefanti. L'elefante è folivoro, che significa che mangia soprattutto foglie e ramoscelli. A volte mangia erba. Questo essere mangia erba come un bue, che significa che mangia soprattutto erba. Sì. Inoltre dice che stende la sua coda come un cedro. Ora, l'elefante ha fondamentalmente un onorato scacciamosche, come gli altri due. Non è il tipo di coda che si drizza come un cedro. Ma questa, sì. Ok. E non abbiamo mai trovato nella testimonianza fossile un essere più grande di un diplopodo o di un brachiosauro o uno di questi tipi di creature. Certo. La più grande creatura che Dio abbia mai fatto, che drizza la coda come un cedro e mangia erba come un bue. Così sappiamo che era qualche tipo di creatura come questa, quella che Giobbe vedeva. Ok. E poi, più avanti, in Giobbe capitolo 41, dice, ora considera il Leviatano. Molti pensano che sia il coccodrillo. Allora, sai, leggi la descrizione. Sembra che sia il coccodrillo, perché certamente è... Dice, guarda la sua pelle. Guarda la pelle, vive nell'acqua, se esce dall'acqua, cammina sulla terra lasciando come delle tracce d'erpice. E l'aspetto è così feroce che nessuno osa salirlo. Oh, sì, davvero. Può essere. E le file dei suoi denti, tutto a misura del coccodrillo. E poi dice che non potresti uccidere quest'essere con le armi di allora, lancia, frecce, dardi, spada o altro mai. Ora, io so che non sta parlando del coccodrillo, perché si può uccidere un coccodrillo con queste armi. Io lavoravo con Tony Poole, autorità mondiale su coccodrilli, e si può uccidere con queste armi. Ma non potresti uccidere questo Leviatano o qualunque cosa fosse. Più avanti, la Bibbia dice, il suo sbuffare fa uscire fuoco dalla sua bocca. Ah, però. Ma dai, davvero, andiamo. Non è così. Sembra una favola. Sappiamo che non c'è una tal cosa come un drago che soffia fuoco. Allora, pensa a questo. Le persone con cui io sono cresciuto in Sudafrica non avevano mai visto una lampadina. Per loro era assolutamente impossibile. Uno scarafaggio non può fare luce. Giusto. È impossibile. Non l'abbiamo mai visto. Non può essere. Ok. La stessa cosa col coleottero bombardiere, come c'è nel nostro paese, nel sud-ovest, che spara spruzzi di acqua a 100 gradi. Come fa il coleottero a non bollire? È giusto. Impossibile. Ma in realtà possiamo vederlo. Ok. Ora, solo perché questa creatura non possiamo vederla oggi, non significa che non sia esistita in passato. Ok. Questa è una creatura che, probabilmente, come altre, si è estinta. Le loro memorie si sono trasformate in feroci draghi volanti, sai, infuocati e tutto il resto. Ma la creatura originale era molto impressionante perché, qualunque cosa fosse lo sbuffare, poteva produrre fuoco dalla bocca. Wow. E perciò quella creatura è veramente esistita. Ok. Così, questi sono i tasselli del puzzle messi velocemente tutti insieme. Sì. Furono creati nel sesto giorno. Sono vissuti con l'uomo e, incidentalmente, non c'è mai stato un tempo in cui i dinosauri abbiano dominato alcunché. Quel compito è sempre stato dato all'umanità. Giusto. Così, sono vissuti con l'uomo per 1656 anni, ma, tra parentesi, una veloce aggiunta qui. Sì. Alcuni potrebbero dire, ma come mai troviamo più fossili di rettili nella testimonianza fossile e relativamente pochi mammiferi? Questa potrebbe essere semplicemente una questione matematica. Quando i rettili depongono uova, depongono un'intera covatta d'uova. Ok. La maggior parte dei mammiferi ha un solo cucciolo. Giusto. Così, per un po' non ci sono nemici naturali. Prova a dire che tipo di creatura forse si moltiplicherà più rapidamente. Al tempo del diluvio avrebbero potuto esserci più rettili sulla Terra che non mammiferi. Potenzialmente molti di più. Sì. Ovviamente il diluvio universale è il motivo per cui li troviamo nella testimonianza fossile. Esistetterò ancora per un po' dopo, coesistendo con l'umanità, forse eludendoci. E non sappiamo perché alla fine si sono estinti, come non sappiamo perché molte altre creature alla fine si sono estinte. Ma il restante color arancio rappresenta il periodo rimanente dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento termina quando il popolo torna dalla cattività babilonese. E poi inizia un periodo di 400 anni rappresentato dall'area verde. Ok. Il Nuovo Testamento è iniziato con la nascita di Gesù Cristo. Circa 2000 anni fa. Ok. Quindi, ecco una veloce istantanea ricavata dalla scrittura stessa e dall'evidenza che possiamo vedere negli strati sedimentari e così via. Sì. Questa è una risposta molto più realistica e biblica a tutto il mistero dei dinosauri. Non è più un mistero. È la storia dei dinosauri dalla prospettiva biblica. Mi piace. E ci sono continuamente sempre più prove, sai. I tessuti estensibili che sono stati trovati. Certo. Non possono essere stati lì per 65 milioni di anni. Quello a cui ti riferivi è che hanno effettivamente preso un osso del T-Rex, come il modello che abbiamo qui. Lo hanno spezzato in due e hanno tirato fuori vasi sanguigni o osteociti che non avrebbero potuto conservarsi per oltre 65 milioni di anni. Certamente è impossibile. È impossibile. Ma qui sta il punto. Ci hai portati fino al tempo di Gesù Cristo e Gesù disse che possiamo credere a quello che Mosè scrisse. Egli disse, se credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. E in molte occasioni anche la relazione della Genesi ci dice del diluvio. Il diluvio che sotterrò molti di questi dinosauri. E così la storia dei dinosauri è in realtà inclusa qui. Anche se non è menzionato il nome. La parola dinosauro è piuttosto recente. E non si usava questo termine prima, ma altri nomi, ma ce ne hai parlato. Ce l'hai spiegato in modo così semplice, così facile, per far comprendere. E tu hai un'intera serie di DVD intitolata Le avventure di Ranger Mike e alla ricerca di Behemoth. Filmato in Sudafrica. In mezzo a un branco di elefanti. In mezzo a un branco di elefanti, dove possiamo confrontare le scritture letteralmente e mostriamo quello che Behemoth era in realtà. Straordinario, straordinario. È entusiasmante. Mike, ogni volta che partecipi al programma resto sempre meravigliato da quello che metti in tavola. Apprezzo molto il tuo lavoro. Ti faremo ritornare per un altro episodio. Grazie, sarò felice anch'io. Questo è un pezzo di meteorite. Viene da Campo del Cielo, in Argentina. La sua storia è piuttosto eccezionale. The Field of the Evans, cioè il Campo del Cielo, si trova in Argentina. Vedete un governatore spagnolo, siccome aveva sentito tutte queste voci sugli abitanti del posto che avevano trovato massicci pezzi di ferro e li stavano usando per fare armi e attrezzi e cose del genere, mandò una squadra militare. E così disse ai militari di andare a cercare questo pezzo di meteorite. Deve esserci qualcosa, forse possiamo estrarlo, forse possiamo usarlo per i nostri scopi. E così questi militari andarono a cercare e non riuscirono a trovare niente. Allora, per abbreviare la storia, alla fine trovarono questo pezzo di meteorite e dissero ma c'è tanto ferro qui, ne presero un campione e lo mandarono a Londra dove si accorsero che non solo era molto molto puro ma aveva una composizione unica. Vedete, all'incirca il 90% di ferro e il restante all'incirca 10% di nickel. E così a Londra dissero ma aspetta, questo sembra un meteorite, non è soltanto un minerale naturale nel terreno, sembra che questa cosa abbia colpito la terra. E quando dico questo, questo è soltanto un pezzetto, questo è soltanto un pezzetto. E così, finora hanno trovato 60 tonnellate di questo meteorite a campo del cielo in Argentina. Questo è soltanto un pezzetto. Dunque, guardate, con la datazione al carbonio 14 si ottiene una data molto interessante. Viene fuori che ha circa 4.500 anni. E così, questo avrebbe qualcosa a che fare col diluvio? Beh, non lo so. Ma è un pezzo caduto dallo spazio. È all'incirca il 90% di ferro e molto molto pesante. E così, comunque, è eccezionale quello che c'è dietro. È eccezionale il pezzo di roccia. E ho pensato che vi sarebbe piaciuto. Allora, ci sono certi misteri riguardo ai dinosauri che devono ancora essere risolti. Ma non c'è mistero riguardo alle origini. Furono creati nel principio dal Dio della Bibbia. Sì, io ci credo per fede. Ma credo anche perché è quello che rivela la testimonianza biblica. È una relazione storica che dà continuamente prova di essere vera. Ora, quella stessa relazione ci dice che senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano diligentemente. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Non inviterete per fede Gesù nella vostra vita oggi? Egli vuole perdonare i vostri peccati e donarvi la vita eterna. Ora spero siate stati ispirati dal programma di oggi e vi incoraggio a prendere la Bibbia e a studiare da soli queste cose. Se avete domande o commenti potete lasciarli sulla nostra pagina Facebook e forse potremo rispondere in un altro programma. Grazie per aver guardato Creazione nel XXI secolo. Quello che abbiamo visto oggi è prova della relazione biblica. Io sono David Reeves e fino alla prossima volta voglio che continuiate a guardare in alto perché veramente i cieli dichiarano la gloria di Dio.